Uè! Chi è? Sono Filippo Spirito Libro! Ahahahah Chi si dice siete so pazzi? Io non so pazzi siete pazzi Uva che non ci viene colpa a canna Hai capito? La natura è la più bella cosa ha lasciato i verdi il progresso E' la margine Rispirare l'aria pura L'arriam Sì sì Gusi Ecco Tizca La natura Sì. Pesso le guacche! Grazie a tutti. 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 Marco. Grazie a tutti. 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 Marco. Grazie a tutti. Marco. Marco. non fa cazzo. guardate. guarda. grazie a tutti. 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 grazie a tutti.